Si è svolta a Casalvelino presso il Teatro del Porto, nell'ambito della rassegna culturale e incontri d'autore, la presentazione del libro Condominio di Enrica Bonacorti, una serata all'insegna della cultura che ha visto numerosi cittadini e turisti presenziari all'evento. Adoro quando mi lasciano in pace al momento giusto e a dire la verità non me ne viene in mente uno sbagliato. Vi passate dei quarto d'ora bellissimi perché ti diverte, ci sono dei momenti in cui magari possono anche essere così, suscitare dei pensieri anche profondi ma altrimenti è tutto un sorriso, è tutta una sorpresa. In molti mi hanno detto che li ha aiutati ad evadere durante il lockdown e far sorridere le persone perché ho scritto altri due romanzi, sono piaciuti, belli, però erano come la vita, insomma, c'ha tante parti anche un po' difficili da superare. Questo è un po' surreale e un po' in fondo come vorremmo che potesse essere la vita presa così. È uno dei posti più belli d'Italia, diciamoci la verità, andrebbe valorizzato ancora di più perché è un delitto, insomma, in tante parti e poi i prodotti che ci sono. Allora io sono qui da poche ore e mi sono sentita un po' esagerata, un po' cretina perché continuano a dire Dio mio quanto è buona questa cosa, questa mozzarella, questa cosa, questo yogurt e sono andata a San Salvatore e si chiama, mamma mia, sono impazzita lì, il pesce che ho mangiato questa sera al tempio. Io non ho mai mangiato un pesce così buono al fondo, mai. Basta, smetto di dirlo perché sembro esagerata, ma questo è un posto ricco di ricchezza. Io sono 51 anni che lavoro, dunque avevo 19 anni quando ho iniziato e mi sono sempre mantenuta da sola. Nessuno mi ha mai dato niente, non ho mai avuto un uomo importante o ricco vicino, anzi. Insomma, me la sono sfangata da sola con l'aiuto di mia madre fondamentale e ho per cui quello che succedeva lo facevi. Per cui ho fatto l'attrice, che era quello che volevo fare, quell'attrice di prosa in teatro, ho fatto la presentatrice, ho fatto la conduttrice, ho fatto la scrittrice, ho fatto la regia, la parola, insomma, quello che c'era da fare si fa, perché così è la vita. Quando ti capita una cosa fatela, misuratevi, è tutta gavetta che poi vi torna. Con questo sottofondo, con Mimmo Modugno che canta la nostra canzone più conosciuta, La Lontananza, io mi auguro che questa lontananza fra noi non ci sia mai e che non sia la lontananza dello schermo a non farci sentire vicino. Fra l'altro, in un posto come questo non possiamo essere lontani oltre mascherine e lontananza, quella per forza, quella obbligata, la distanza la chiamerei più che lontananza. Qui viene voglia di abbracciare tutti e tutto, perché le cose buone che si vedono e si mangiano, si toccano e da qui ci si sente abbracciati nel Cilento, non me ne vengono in mente tanti di posti, anzi forse nessuno. Per cui, Cilento ciao, ciao, Cilento ciao, ciao, faccio un nuovo slogan, Cilento ciao, ciao, e grazie di avermi ospitata. Insieme a Mimmo ve lo dico, grazie. Grazie a tutti.